Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove si segnalano due chilometri di coda per lavori tra la Strassigna e Scandicci in direzione Firenze, spostandoci in A1 in direzione Bologna a code per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per consentire lavori di pavimentazione stanotte, domani notte in orario 22.06, sarà chiuso lo svincolo di Arezzo in entrata in direzione Bologna. Si ricorda che a Firenze sono iniziati i lavori di riqualificazione dell'impalcato e della pila destra del ponte Vespucci e arriverà anche la pista ciclabile. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie!